Ciao a tutti ragazzi, bentornati in quello che può essere ormai definito un nuovo video della miniserie dedicata al checkpoint del mio net worth, del mio capitale accumulato, del mio valore netto, chiamatelo come volete, anche se in realtà ci sono numerosi asterischi nel definire net worth. Ad esempio quando compro un immobile, chi stabilisce qual è il prezzo effettivo di quell'immobile in ogni momento? Il mercato? Utilizzo il prezzo di acquisto di quell'immobile che nel frattempo potrebbe essere sceso? Insomma, ci sono molte cose che si dovrebbero tenere in considerazione nel valutare il net worth. Comunque in questo video voglio parlarvi del valore di asset i quali possono essere quantificati. Dico un nuovo video di questa serie perché in passato ho fatto due video a proposito, uno su quando ho risparmiato 8.000 euro in 6 mesi, uno su quando ho risparmiato 20.000 euro in 12 mesi e questo video nel quale voglio mostrarvi come ho risparmiato 50.000 euro in 20 mesi. Non ricordo se negli scorsi video ho parlato di questa cosa, ma dovete sapere che ho iniziato a risparmiare, investire e gestire i miei soldi in generale a inizio 2019. Fino a quel momento in realtà non avevo alcun interesse, alcuna considerazione del risparmio e dell'accumulo di beni. Inoltre tra liceo, università e tempo perso non è che avessi così tante fonti di entrata e non è che avessi così tanto capitale risparmiato. L'unica mia fonte di entrata derivava dal calcio, un rimborso spese in quanto io facevo il calciatore in alcune squadre locali e venivo pagato mensilmente per fare questa cosa. Quindi da quando avevo 17 anni fino ad arrivare a un anno e mezzo fa, circa poco più, beh tutto quello che guadagnavo dal calcio veniva bene o male speso. Stiamo parlando di cifre irrisorie. 80 euro l'anno quando ero proprio giovane giovane fino ad arrivare nel tempo a 250, 300, 400 euro al mese. E considerate che tra pizze, compleanni, cene, aperitivi, tutte queste piccole entrate venivano spese. Ma alla fine l'utilissimo e assolutamente indispensabile ottenimento di 300 CFU e il conseguimento della laurea mi hanno permesso di trovare un lavoro, iniziare a risparmiare qualcosa ogni mese. Il mio punto di partenza come risparmio era 7.000 euro a inizio 2019, cifra che ero riuscito miracolosamente a risparmiare gli anni prima. E da lì l'ultimo video dei 20.000 euro in 12 mesi seguiva quanto avevo risparmiato nel 2019. In questo video quindi vi voglio mostrare come sono arrivato da 27.000 euro circa fino a 50.000 euro nel giro di quelli che ormai sono 8-9 mesi del 2020. In realtà proiettando questa cifra sui 12 mesi del 2020 dovrebbe esserci un aumento delle entrate per tutto il 2020 rispetto al 2019. A inizio 2020 avevo tre entrate principali, calcio, peer-to-peer lending e lavoro da dipendente. In realtà con tutte queste riuscivo ad accumulare circa 2.000 euro al mese, a avere delle entrate pari a 2.000 euro al mese. Mi sembrava che per una volta nella vita le cose potessero andare bene. Ovviamente no. Prima ancora della situazione attuale che tutti conosciamo, alcune piattaforme di peer-to-peer lending si sono rivelate delle truffe e ho perso 2.100 euro. In questo momento la perdita è stata contenuta fino a 1.900 euro di perdita per il 2020. In più il covid ha bloccato qualsiasi attività da marzo, perciò anche l'attività sportiva, l'attività calcistica e ovviamente le società da quel momento in avanti non hanno più effettuato rimborsi spese e perciò mi ritrovavo con due entrate in meno, una addirittura in negativo e l'altra pari a zero. Mi rimaneva solamente il mio lavoro da dipendente. Nei primi tre mesi del 2020 col calcio ero riuscito a guadagnare 1.500 euro, 500 euro al mese e addirittura inizio 2020 ho iniziato a ricevere i primi pagamenti da youtube effettivi sul conto corrente, dato che fino alla fine del 2019 avevo temporaneamente sospeso i pagamenti, dato che non avevo una partita iva aperta. Ho aumentato così le mie entrate mensili di una buona percentuale. Considerate che in questo momento nel 2020 in totale avrò guadagnato circa 15.000 euro lordi da youtube. Questo significa circa 1.600 euro di media da youtube dalla monetizzazione dei video in nove mesi e ho intenzione di portare ulteriori aggiornamenti su questo aspetto, dato che in tantissimi me le state chiedendo. Per quanto riguarda la mia entrata da lavoro dipendente, che come ben sapete al momento è nulla perché mi sono licenziato a fine giugno, inizio luglio, ho guadagnato nei sei mesi più il tfr ottenuto per un anno e mezzo di lavoro circa 10.500 euro che si vanno a sommare a tutti i miei guadagni del 2020. Fortunatamente però uno dei vantaggi principali di avere un canale youtube è che permette di avere altre fonti di entrata secondarie. Uno di queste è amazon affiliate, del quale non parlo praticamente quasi mai, che però mi ha permesso di ottenere nel 2020 circa 200 euro, 150-200 euro. In più oltre a queste ci sono vari link di affiliazione che trovate in descrizione sotto i miei video e questi mi hanno permesso di arrotondare un po' le entrate perché mi hanno permesso di guadagnare circa 3.000 euro nel 2020. Ancora poi ho ottenuto due diverse entrate nel 2020. Una riguarda un'entrata passiva. Il mio portafoglio azionario mi ha permesso di guadagnare 200 euro in dividendi, soprattutto ottenuti da azioni ENI. E un'altra entrata è una tantum, cioè l'ho ottenuta quest'anno e molto probabilmente negli anni prossimi non l'otterrò, anzi sicuramente, che consiste in un premio di laurea del 2018, quindi alla buon'ora, di 550 euro. Il totale delle entrate è pari a 29.150 euro al momento, più o meno, per il 2020. E in realtà ci sarebbe un asterisco da porre a questa cifra, perché le entrate da YouTube, le entrate da affiliazione, da peer-to-peer lending sono lorde e perciò dovrò pagare circa 7.000-8.000 euro in questo momento, ma convido che nei prossimi mesi ad arrivare a fine 2020 questa quantità da pagare sotto forma di tasse sarà coperta dalle nuove entrate, o perlomeno spero. In questo senso il 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti. Ho sostituito le mie entrate precedenti con una nuova entrata, più o meno diversificata, e che spero possa aumentare nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Ovviamente però non ho avuto solamente delle entrate nel 2020, ho avuto anche delle spese, altrimenti avrei ampiamente superato la cifra di 50.000 euro, oppure l'avrei ottenuta in precedenza. In realtà però ho comunque cercato di limitare le mie spese utilizzando un po' di intelligenza. E una delle spese principali riguarda la mia auto, come penso la maggior parte delle persone abbiano tra le spese principali la propria automobile. Anche per me è stato così, nonostante non la utilizzi così tanto. Infatti tra assicurazione, nuove ruote, nuovi pneumatici e benzina, metano, tutte queste spese hanno comportato una spesa totale per il 2020 pari a 1.200 euro in questo momento. Inoltre una mia spesa, che però in realtà è un investimento, è l'attrezzatura per questo canale. Cavalletti, GorillaPod, nuovo obiettivo. Questo canale mi ha costato nel 2020 1.500 euro al momento e in questo senso però questa spesa mi fa piacere averla effettuata. Infine ci sono altri tipi di spese che in realtà non ho contenuto, non sono stato abile nel contenere. Sto parlando di aperitivi e cene fuori al ristorante che mi sono costate 1.500 euro in tutto il 2020. Perciò circa 200 euro ogni mese al momento. Ho speso poi 300 euro in educazione, i libri che vi ho mostrato in un unboxing. Ho speso 200 euro per regali di compleanno o regali vari. Ho speso 300 euro per l'acquisto di vestiti e ho speso 30 euro di ricarica telefonica al momento per il mio cellulare. Capite bene che queste spese potrebbero essere ridotte ma ho deciso di non limitare troppo il mio stile di vita. Anche perché a un certo punto sarei scoppiato, tra virgolette, non ce l'avrei più fatta a limitarmi. Le spese totali quindi al momento per il 2020 sono pari a circa 5.230 euro. Quindi in questo momento 27.000 euro di capitale iniziale, 29.150 euro di entrate per il 2020, 5.230 euro di spese per il 2020 sono un totale di netword pari a 50.920 euro. Ora, come immagino la maggior parte di voi abbiano già notato dall'elenco delle mie spese che mi ho mostrato poco fa, ci sono delle spese che in realtà non ci sono. Sto parlando di quelle necessarie, l'affitto o la rata del mutuo. Sto parlando del pagamento delle bollette, della gestione di magari figli, di tutte le spese che comporta avere un figlio o avere ad esempio animali da badare. Considerando un totale di spese di questo tipo di 600 euro al mese e considerando i 20 mesi che sono passati in questo periodo, le spese totali sarebbero state pari a 12.000 euro e sarei in questo momento a circa 38.000 euro di netword. In realtà capisco bene che per chi deve affrontare queste spese la situazione è molto più complicata della mia situazione attuale. Ma in questo senso perché non sfruttare la mia situazione? Inoltre non credo che il fatto di avere figli sia un particolare merito o una particolare colpa. Il punto è che sto cercando di massimizzare la mia capacità di aumentare il capitale in questo momento dato che ho la possibilità di mantenere le spese al minimo, ridurle il più possibile, per poi eventualmente fra un po' di tempo arrivare ad affrontare queste spese in una situazione economica più favorevole. Sono scelte in realtà. Ho amici e persone che conosco che hanno dei figli oppure vivono da soli in una casa in affitto o hanno acceso un mutuo. In realtà loro sono felici così per la loro indipendenza o per il semplice fatto di avere un figlio. Da questo punto di vista non posso avere quell'indipendenza che una persona che ha una propria casa ha. Di contro riesco a risparmiare di più non avendo delle spese che quella casa comporta. Ho anche amici però che sono nella mia stessa situazione non hanno né figli né casa da pagare. Eppure spendono tutto quello che guadagnano e non risparmiano nulla. Insomma tutti questi rappresentano un mix di casi che non si possono generalizzare. In realtà io in questo video cerco di descrivere la mia esperienza e le mie capacità di entrata e di spesa. Diciamo che il mio prossimo obiettivo è riuscire ad arrivare a 100.000 euro di valore netto sempre se vogliamo mantenere la definizione di valore netto che è un po' ambigua come vi dicevo all'inizio di questo video. Ma in realtà credo che questo obiettivo verrà raggiunto nel migliore nel massimo dei casi a fine del 2021 a metà del 2022. Dato che molti di voi mi hanno chiesto come io limitassi e controllassi le mie spese ho deciso di parlarvi in questo video di un software completamente gratuito che potete trovare online e non ci sono affiliazioni vi lascio il link in descrizione a questo video che si chiama GNU Cash. Questo software di contabilità permette di inserire delle voci di spesa e creare dei piccoli account generalizzando le varie spese ad esempio ho creato degli account come ristoranti e dentista entrate di carica telefonica. Ho creato tutti questi account all'interno del software e riesco a gestire mese per mese giorno dopo giorno tutte le mie entrate e uscite. Come però ho già ripetuto in altri video precedenti avere i soldi sul conto corrente e guardare il numero sul conto corrente è completamente inutile e non serve per aumentare le proprie ricchezze. Infatti questi soldi li utilizzerò per investirli in nuove fonti di entrata cercando quanto più possibile di renderle passive. Così è come sono riuscito a risparmiare 50.000 euro in 20 mesi in realtà circa 22.000 euro negli ultimi 8 mesi. Voi quanto risparmiate e quanto investite? Fatemelo sapere con un commento sotto a questo video. Per il resto il video finisce qui spero veramente che vi sia piaciuto e vi sia stato utile e se è così lasciate un bel like e se siete nuovi sul canale iscrivetevi e attivate la campana di notifica per non perdere i miei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video grazie mille per aver guardato